...80% che poi chiaramente dopo non potranno essere più reperiti, non si troveranno più facilmente, quindi vi invitiamo a raggiungerci qui a Caserta Sud, uscita autostrada a Caserta Sud in direzione Benevento dove ci siamo noi, Gigi Rosa Rosanena con la postazione di Radio Marte. Alcune offerte, alcune, non tutte perché ce ne sono troppe da elencare tutti in una volta, cucina da 3 metri completa di elettrodomestici a partire da 1300...